Cersaie fa 40 anni e voi vi fate un regalo per il compleanno di qualcun altro, un'acquisizione quale? Direi proprio di sì, approfittiamo di questa occasione per annunciare che il gruppo AMA, in questo caso AMA Composite, ha già avviato la due diligence praticamente, quindi abbiamo fatto una lettera d'intente, la due diligence per l'acquisizione del 100% di PFM di Palagano Modena. PFM che è una realtà ben conosciuta nel mondo ceramico, che lavora ormai da 25 anni, conosce perfettamente questo settore, soprattutto nella parte delle rettifiche, sotto squadri, sotto formati. In questo momento noi abbiamo come AMA che veniamo da un mondo completamente diverso, noi veniamo dal mondo dell'automotive, macchine agricole, movimento terra, industriale, abbiamo deciso di fare una scelta che va tutto sommato in una direzione opposta. Abbiamo guardato oltre, abbiamo valutato opportunità, costi, soluzioni, abbiamo deciso di investire nel mondo ceramico. Il mondo ceramico attraverso AMA Composite, che è un'azienda facente parte del gruppo, che si è specializzata negli ultimi anni in isolamenti ad altissima prestazione, a base a Riogelle. Senza andare troppo nel dettaglio, gli ultimi anni sono stati per noi fantastici, abbiamo raggiunto dei livelli di fatturato importanti, oltre 70 milioni di euro, e abbiamo deciso di continuare in questa direzione. Perché abbiamo deciso di acquistare PFM? Per il semplice fatto che abbiamo visto in questi ragazzi del nostro territorio qualcosa di straordinario. Hanno messo a punto un brevetto che riteniamo molto intelligente, sempre che va nella nostra direzione di miglioramento dell'efficienza energetica delle case. E' la nostra commessa, insomma, siamo pronti a dare del nostro meglio per raggiungere un obiettivo che sicuramente sarà interessante. Siamo qui al Cersaie per parlare con tanti operatori del settore, per trovare delle sinergie, per fare squadre, per raggiungere degli obiettivi che vanno anche al di là del territorio nazionale. Ce la faremo. L'azienda che avete acquisito è un'azienda che in questo momento è proprio al centro di una delle tematiche fondamentali di questa fiera, le grandi lastre. Quindi, insomma, avrete un bel da fare. Siamo pronti a fare un salto di qualità anche in questo settore nel grande formato. Abbiamo studiato prodotti isolanti che toccano trasversalmente, diciamo, da 60 a 120 fino alle lastre maggiori.